Salve a tutti ragazzi, sono l'Orkane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato, che è anche il primo della nostra nuova serie gaming, perché ogni tanto bisogna anche rilassarci, quindi scegliamo un bel gioco truculento, bello tosto, bello pieno di stress, come Darkest Dungeon. Prima puntata di questa nuova serie, non so quanto lungo andremo, ma quando ho occasione, volentieri registrerò una, vi tralascio il prologo, comunque è una storia molto bella, vi consiglio di dartici un occhio magari da Youtube, cercate l'intro. In sostanza questo antico signore, questo vecchio signore padrone di questo maniero, che vediamo più o meno in rovina là dietro, era un po' dedito alla lussuria, all'alcol, a queste cose qua, quando poi deciso di esplorare i segreti, che erano contenuti diciamo nelle rovine sotto la sua abitazione, in quella grotta che poi andremo ad esplorare, gli svegliò un antico male, per così dire. Poi, vabbè, nel dubbio, ho deciso anche di suicidarsi, già che c'era, e mandare una lettera ai suoi discendenti, più o meno, che siamo noi, per ritornare qui, insomma al suo maniero, e fare luce sui misteri che si celano sotto a questo maniero, che fra l'altro daremo un nome, e glielo diamo subito. Come chiameremo questa mansion? Non lo so, abbiamo il nostro For The Win, che è il mio salvataggio principale, ci ho giocato qualche volta, divertente, For The Win, un tubero comunque, ma Aurelis Mansion, la mitica salvataggia del mio amorosa, e andiamo a darne un nome al nostro, che sarà GG, non so, perché mi ispira a GG maiuscolo, quindi il nostro mansion si chiamerà GG, per cui partiamo subito. Comunque, diciamo che, questo anziano signore, deceduto, siamo andati a questa lettera, e da qui noi partiamo, per cui siamo in carovana, stiamo partiti, stiamo arrivando verso questo maniero fichissimo, quindi siamo già in un'ambientazione un po' scura, un po' cupa, e il tizio dice cosa? Dice che stiamo viaggiando, arriveremo sulla vecchia strada, e ci sta raccontando, insomma, di cosa accadrà, cosa davanti a noi si sta dipanando. Comunque, vedete già che è molto simpatico il tizio che sta guidando questa carovana, noi siamo lì dentro con la nostra scorta, bella è la grafica, ci piace, bella cupa. Sto registrando con OBS la versione 64 bit, spero riusciremo ad avere un risultato recente, insomma, non come magari le registrazioni precedenti che abbiamo fatto con l'altra versione di OBS. Comunque, gente che ci indica i percorsi, andate di là ragazzi, ah no, sta parlando con le foglie, non sta parlando con noi, e vedete che la traccia, com'è la grafica di questo gioco, quanto figa, è un po' minimale, ma è estremamente carica, con questi disegni che sembrano un po' fatti a mano, forse lo sono, riviste a computer forse quello può essere. Comunque, la nostra diligenza parte bene, siamo molto dirigenti, quindi ci sconquassiamo, e il nostro cocchiere, lo chiameremo cocchiere perché è cocca, probabilmente, dall'inglese, coccare, che non è bellissimo, con la diligenza distrutta e il custode è andato, si dovrà fare il viaggio fino alla frazione a piedi, quindi partiamo. La nostra scorta, ovviamente, combatterà per noi, ovviamente noi non siamo esattamente dei combattenti, bensì non so, in realtà la nostra figura non si vede un granché. Cosa succede in questo gioco? È un GDR, vagamente gotico forse, a turni, sì, probabilmente sì, strategico, sì, un po' brutale, perché i nostri personaggi moriranno di brutto. Abbiamo Reinald crociato e abbiamo il nostro Dismass, il nostro brigante. Non andiamo troppo a vedere, ma questa è la scheda del personaggio, il suo pochio occupaggiamento, le sue abilità, le abilità d'accampamento, ma sono tutte cose che al momento non ci interessano e ci interesseranno poco anche dopo. Comunque, le cose importanti, abbiamo una barra della vita, i punti ferita, una barra dello stress e vedrete cosa sarà, il nostro obiettivo di missione, raggiungere il borgo, la nostra luce al momento non ci interessa e al massimo. Questa è la mappa, siamo in una stanza, per cui siamo qui dentro, possiamo muoverci o nelle stanze o nel corridoio. Scegliamo la prossima zona, quindi nella prossima stanza, e partiamo. Ecco, movimento nel corridoio, mentre ti trovi nel corridoio, premi D o per muoverti in avanti, va bene, o clicchiamo col mouse, possiamo anche giocare col controller, io non lo faccio. Comunque facciamo spostare il nostro gruppo in questo corridoio, vedete che avanza anche da là sotto. Il nostro primo incontro è un minimo bandito che ci ha già sorpresi e rimescolati. Vedremo in futuro che questa cosa è un po' angosciante, ma riusciremo in qualche modo a superarla. Ci fa 6 danni, sanguiniamo, il nostro obiettivo sarà uccidere il nemico, il combattimento a turni. Se non puoi selezionare una determinata abilità è perché quell'eroe ha bisogno di ritrovarsi in una posizione differente, oppure non ci sono bersagli, adesso andremo a vedere. Per esempio il nostro Dismass è lui, Dismass, ha 4 abilità, però che sono queste qua sopra. Andiamo a vedere da qua, può fare solo apertura delle vene, non può fare colpo di pistola, che richiede di essere nelle prime 3 posizioni, normalmente si è in 4, non può fare esplosione a grappolo perché in prima posizione non può fare colpo mirato perché nessuno è in seconda, terza o quarta posizione, quei pallini rossi indicano la posizione del nemico. Per cui andiamo con la nostra unica abilità, è il tutorial. Possiamo anche morire nel tutorial, ovviamente sì, certo che sì. Non è mica un tutorial come gli altri. Scegliamo il fendente, face, vai fendilo, l'abbiamo fenduto, si può fondere la gente, beh comunque l'abbiamo fatto. Bottino, ogni oggetto se lo prendi occuperà spazio nel tuo inventario. Passa sopra gli oggetti per vederne i dettagli, funziona anche nell'inventario questa cosa. Abbiamo preso 50 gold, l'oro corrompe, costruisce imperi e istiga gli omicini, va bene, ne prenderò queste 50 unità. Facciamo tornare di smasco addietro, il nostro eroe sanguina prenderà un danno per i prossimi due turni, quindi vabbè, succherà un pochino, ma fatti suoi. Uh, che bello, una tenda. Oggetti interattivi, curious in inglese, tradotto curiosità. Ah, fra l'altro sto usando una traduzione più o meno ufficiale, che però poi magari metterò in descrizione dove la si può trovare. Mentre esplori troverai spesso degli oggetti interattivi. Cliccaci sopra, questa è una tenda, clicchiamoci sopra. Ogni tanto potremo usare questi oggetti opzionali, che comunque ora non abbiamo, per cui luttiamo. I briganti hanno lasciato qualcosa, 100 monete e una gemma da 500, va bene, siamo quasi ricchi. La nostra luce sta un po' scendendo, ma non abbiamo torcia, non possiamo farci nulla in questo dungeon. È già finito, perché sono due stanze. Mega boss finale, ci sorprendo questa volta. No, il buon Dismas farà un colpo di pistola. Quindi becchiamo sto manzo, vai, spariamo di face, 6 damage, oh, sopra figata, fuoco di copertura, ci piglia entrambi, un danno, due danni, va bene. Ci ha fatto un malus, non ci interessa un granché, però ci dà meno due schivata per un round, va bene, non è la fine del mondo. Continuiamo con la nostra abilità base, andiamo difendente, tanto siamo nel tutorial, se dobbiamo morire, moriamo. Potrebbe, infatti, già questi 11 danni non promettono bene. Ci butta dietro di uno, non benissimo, ma finché siamo in due non è la fine del mondo. Dismas, certo, perde un po' di combinazione d'attacco, ma fa lo stesso, andiamo, andiamo, possiamo farcela, possiamo farcela, se non ci ammazzano, possiamo tranquillamente morire già nel tutorial, sia chiaro. Non è un gioco come gli altri, capita ogni tanto, piuttosto spesso in realtà, di morire orribilmente, maciullati, di dover ritirarsi da partite che speravamo di vincere, di dover sacrificare tutto per salvare un personaggio a cui siamo affezionati. Trucco, non affezioniamoci dei personaggi. Issi muoiono, amen. Cadaveri, quando i mostri muoiono resteranno i loro cadaveri. I cadaveri potranno scomparire, naturalmente, ma attaccandoli spariranno prima. Il mostro ucciso è che ha un avvelenamento, sanguinamente colpi critici, non lasciano cadaveri, ma se li portano via, probabilmente, perché sono molto ordinati. Ci sta un po' prendo, spero che sopravviveremo, non è per scontato. Vedete che questo cadavere è particolarmente ammazzo, quindi occupa due spazi, quindi andiamo a trapanarlo, cerchiamo di eliminarlo. Fra l'altro è un cadavere con un sacco di HP, ha due HP e prenderà due danni, va bene. Il problema è che Dismask da qua non può fare nulla, per cui attaccheremo questo tizio, suppongo, lo facciamo sparire, via, prendiamocelo con i cadaveri, perché ci piace l'idea. Spara frettato, aia, critico. Ecco, il critico, come vedete, ha fatto anche aumentare il nostro livello di stress, per ora non ce ne curiamo, tanto siamo nel tutorial, che ce ne frega a noi. Non ci uccidere, per favore, ok, due danni, ce la possiamo fare a superare il tutorial più o meno vivi, non messi benissimo, ma più o meno vivi. Comunque ce l'abbiamo fatta, uiea, fra l'altro il critico ci ha fatto recuperare un po' di stress. Solderini, solderini, un trinket, i trinket vanno a occupare questi spazi qua, questo è per il balestriere, più uno critico, va bene, prendiamo. Quest finita, dove avrei portato a termine gli obiettivi della missione, potrei tornare in città in qualsiasi momento, clicca sull'emblema. Non avrei bisogno di tornare dalla stanza del dungeon, la prima stanza del dungeon per uscire. Continuiamo l'avventura, possiamo però uscire cliccando lì, aprirò questo scrigno, richiederebbe una chiave che non abbiamo, per cui potrebbe essere trappato, e infatti c'è una trappola che ci avvelena. Maledizione, eh vabbè, il tutorial ci sta. Se avessimo trovato una chiave, magari avremmo potuto aprirla e trovare cose un po' più fiche. Non è che automaticamente c'è la trappola, però abbastanza spesso c'è la trappola. Il vecchio sentiero, oh yeah, 5k per noi, questo è il bottino che abbiamo trovato durante l'esplorazione, che viene convertito in cash, queste valgono 500, il cibo vale tipo nulla, forse 5 monete. Non abbiamo trovato null'altro, quindi avanziamo. Fine quest ci darà i risultati, per cui più due punti esperienza, punti fermezza, diciamo, che ci permetteranno di rivelappare. Siamo di primo livello, siamo messi bene. Egemonia, oh no, è ossessionato da se stesso. I tratti possono essere positivi o negativi, in questo caso ci siamo presi due tratti negativi, per cui è astemio, dismas, non verrà mai in città per recuperare il suo stress. E l'altro ha l'egemonia, per cui è ossessionato da se stesso, quindi in alcuni casi farà cose che generalmente non sono super positive, soprattutto per noi e per il resto del gruppo. Gli orai possono essere rinominati, va bene, lo faremo. Comunque, eccoci arrivati al borgo. Obiettivi del custode, va bene, questi sono gli obiettivi, completa con successo la prima cosa, sconfiggi questo, sconfiggi l'altro. Non ci interessa nulla, comunque, dismas, ora è apprendista brigante, era una hold, è apprendista crociato, va bene, terrò questi nomi. Questo è il nostro borgo, trova aiuto dove puoi, cliccando H, premendo H ci darà delle info. Comunque, vediamo un po' cosa possiamo fare, abbiamo solo tre punti esclamativi, tutte le altre aree per ora sono bloccate, perché le sblocchiamo mano a mano. La carovana, che è una ficata, la carovana è la linfa vitale dei tuoi eroi, dove dovrai reclutare tutti questi eroi per completare una compagnia di quattro. In questo caso abbiamo Merry, Merry Christmas, lo mettiamo qua, è un ragazzo molto felice, nonché un cercatore medico della peste, per cui, insomma, diciamo che ne ha visti di tutti i colori, per cui si è messa una maschera in faccia da uccello, ci può stare. E la nostra Corbiere, che ha un po' di tratti negativi, più 20% stress, affascinata dai cadaveri, che era della luce, è elastico, è elastico questa ragazza, per cui può anche curarsi più stress, va bene. Comunque li pigliamo, abbiamo solo questi, inutile pensarci troppo. Potenza la rete della diligenza, visto che sei qui, togli l'occasione per potenziare la rete della diligenza, spendendo alcune dei tuoi cimelli di partenza. Vedrete qua in basso, eccoli qua, che partiamo con 10, 10, 10, 20. Queste cose ci servono per potenziare, diciamo, le risorse del nostro borgo. Rete di carovana, per cui possiamo adesso, invece che avere due soli eroi, come abbiamo adesso, potremo averne tre in futuro, la prendiamo subito, e anche la caserma degli eroi, che ci permette di aumentare, un'ora al massimo possiamo avere 9 eroi, può aumentare lo spazio a 12. Può aver senso farlo subito, tanto ci servirà molto presto questa cosa, per cui tanto vale, credo farlo adesso, che tanto non possiamo fare molto altro. Ora la prossima volta la carovana avrà tre eroi nuovi, e noi potremo reclutarne fino a 12 in totale. Poi le cose cliccabili alla memoria degli Antonati, che praticamente raccoglie i filmati e queste cose, notate questa statua del tizio di cui vi dicevo all'inizio, il nostro nonno, padre, vatte la pesca, intraprendi, al momento il villaggio non ha molto da offrire, è ora di intraprendere una missione, lo faremo a brevissima. Abbiamo poi il cimitero, dove finiranno tutti gli eroi caduti con il custode tristissimo, che si copre la mano e la bocca perché puzza di brutto questa zona, e null'altro. Avremo poi il fabbro, la gilda, che sono per potenziare un po' i nostri personaggi, abbazia e taverna servono per recuperare un po' di stress, survivalista, 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 non sapevo esistesse questa parola in italiano, ma non so così tante cose, ci darà nuove abilità e il sanatorio ci curerà da cose terribili. Caro dei nomadi, vabbè, ci venterà oggettini quando non ne avremo bisogno e non avremo neanche i soldi per comprarli, ovviamente. Missioni e compagnie, la parte forse principale, dove comunque partiremo per tutte le nostre missioni, qui selezioni una missione e formi una compagnia di ventura di quattro eroi per intraprenderla, va bene. Qui abbiamo le nostre missioni, ovviamente adesso siamo all'inizio, e abbiamo solo l'avventura alle rovine e il Darkest Dungeon, ma ovviamente il Darkest Dungeon è noi siamo le fiamme, la fiamma, no, le fiamme, avventura media, livello oscuro 6, chiaramente non è il momento di farlo, dobbiamo prepararci per quell'avventura, livello breve, cioè durata breve, apprendista livello 1, completa il 90% delle stanze, queste sono le ricompense che ci daranno, quattro stemmi, un trinket molto comune, più 20% stordimento, sembra anche carino, mettiamo su il nostro party, metterò questo e metterò questo, non possiamo fare molto altro, ogni tanto il nostro party prenderà un nome a seconda di quanto comune sia questa situazione, questa è il party, i soliti sospetti, vedete che le abilità cambiano, questa qua è più o meno la nostra guaritrice in questo momento con un paio di abilità, questo è più o meno il nostro avvelenatore, stordisce, avvelena, rimescola, fa cose, Dismas e il nostro Reynold, l'abbiamo più o meno già visto in azione. Partiamo con la nostra missione, ma sì, so via, partiamo con la missione, normalmente avremo i nostri trinket, però abbiamo solo questo, ed è solo per il balestriere e non possiamo farci nulla, partiamo con i rifornimenti, 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 ok, so leggere a volte può capitare, da qui prenderemo le cose utili per la nostra missione, a seconda di che zona stiamo affrontando, alcune cose sono più o meno utili, dovrei prendere le giuste provviste a seconda della zona dove ti avventurerai, a seconda della durata della missione, a seconda delle tue preferenze, porta sempre con te cibo e torce, per la tua prima breve missione, portati almeno otto razioni e quattro torce, per cui ci prendiamo otto razioni, bong, prenderò sei torce, perché tanto preferisco avere più luce del normale, qui abbiamo un'acqua santa, abbiamo un antiveleno, prendiamoci su due chiavi a caso, prendiamoci su una benda, tanto è la prima missione, possiamo sperperare, voglio la vanga, decisamente sì, e credo prenderò anche un'erba medicinale, è a caso, e dopo, dalla prossima volta, ci avverremo anche di darkestdungeon.gamepedia.gamepedia.com, suppongo, che è una sorta di wiki dove troveremo un po' di consigli su che cosa portarci via nelle varie missioni, la tua prima spedizione nelle rovine e dei tuoi antenati, sì curioso, ma con prudenza, questa sarebbe stata un po' la citazione di Steve Jobs, suppongo, vabbè un po' tradotta in questo modo, la schermata dell'eroe, clic destro sull'immagine e il ritratto di un eroe, per mostrare la schermata dettagliata dei suoi tratti, l'abbiamo più o meno visto, questo è timorato del dio, è cleptomane, attenzione, propessa al furto, è ossessionato da se stesso ed è anche il guerrero della luce, per cui prende più di 10% danni se il nostro indicatore di luce, che è questa cosa qua sopra, è superiore al 75. Le dinamiche della torcia è piuttosto semplice, mano a mano che esploriamo la luce scende, più la luce scende, più troveremo del loot migliore, cioè troveremo del bottino migliore, ma staremo anche contro mostri un po' più forti, boss, mob un po' più forti, e subiremo addirittura più stress, questo va bene, la torcia direi che si commenta da sola, è una torcia autoparlante, quindi prendiamoci una torcia, cerchiamo di tenere la luce abbastanza alta, nulla di interessante questo nel primo corridoio, ricarichiamo la luce, vedete che adesso ci dà più esplorazione, più mostri sorpresi, per cui è più probabile, ecco come adesso vuole sorprendere i nemici, e non ci dà penalità di nessuna sorta, esplosione nociva, strabaniamo questi tizi, questi sono morti, per cui vedete che hanno sanguinamento, resistenza 200%, è difficile far sanguinare una cosa che non ha sangue, però per il resto delle loro resistenze sono scarse, per cui tiriamo di stammazzuata, infatti resistenze sono scarse, Citta aveva il 10% ed ha già resistito, ma ok, è un gioco ad alta varianza a quanto pare, però va bene, ci andrà bene così, ci andrà bene così, non dovrebbe essere difficile, luce abbagliante, abbiamo abilità di cura, luce abbagliante può fare un po' di danni, meno 75% del danno base, però può stordire, ci dà anche più serra torsa, e può anche mancare a quanto pare, siamo dei cecchini della luce, va bene, trappanderò questo tizio, il primo scontro è facile, e ce la facciamo comoda, recuperiamo anche un po' di stress, solo denari per noi, questo gesto non crede o richieda nulla, vedete che non ha una serratura, per cui lo apriamo, il contenuto è tuo, vai, una pala di gioia, 4 stemmi e 50 monetine, non è proprio il loot della vita, ma è normale, su via, è la nostra prima missione, possiamo lamentarci subito? no, disse mentre si lamentava, usiamo la pala per rimuovere questo super ostacolo, possiamo rimuoverlo anche senza pala, ma subiremo danni e stress, e non è esattamente quello che vogliamo fare, non so, è possibile ovviamente trovare anche trappole e alfini, non le vedrò mai, per cui ci cammineremo sopra a tutte, questo gruppo nemico è particolare, abbiamo due scheletri, più o meno che fanno danni, e questo tizio, il cultista accolito, che io personalmente odio, che fa abbastanza violenza, e ci infligge stress, ecco lo stress è un po' problematico, può far fare veramente brutte cose ai nostri eroi, possono diventare afflitti, possono fare cose terribili, e sarebbe il caso di eliminarlo la prima possibile, questo tizio suppongo sia una buona idea, per cui magari lo avveleneremo pure, sempre se possiamo farlo, perché in realtà abbiamo un gasto ordente, granata per silenziare, sì, possiamo colpirlo, e andiamo a macinarlo, quanti HP ha questo tizio? Ha 3 HP? E prenderà 4 danni? Bello morto! L'avvelenamento è una dinamica che vedremo, comunque diciamo che fa un dot, damage over time, per cui questo tizio adesso per 3 turni, prenderà 4 danni ogni turno, facciamo una cosa zelante, ma sì, con questo attacco, prendiamo i primi due, non è secondo me una buona idea, spalmare il proprio danno, era meglio cercare di ucciderne uno, prima eliminiamo una fonte di danno, meno danno andremo a prendere, quindi direi che sarebbe abbastanza saggio, quel tizio morirà da solo, questo è uno, quindi morirà automaticamente, direi che possiamo provare a farlo fuori, e c'è andata di super lusso, beh l'alternativa era mancarlo, sarebbe stato un po' triste, Dismas, Trapana, Stutizio e Gigi, ce l'abbiamo fatta, acqua santa, molto comune, più 20 abilità spostamento, nessuno di me ha queste abilità, e ce lo pigliamo, ce lo pigliamo, ma pigliamo l'abilità spostamento, non ci pigliamo altre cose strane, imposti strani, per motivi assolutamente non raccomandabili, tra l'altro evito di far volare il mio headset, rip headset a quanto pare, stanza vuota, solo gioie, uh esplorazione, perfetto, ogni tanto capiterà, a seconda delle abilità anche dei nostri personaggi, direi che potremmo andare a vedere cosa c'è qui, e avanziamo, ecco con l'esplorazione andiamo a vedere i contenuti, più o meno, dei corridoi e delle stanze, e un successo critico potrebbe anche rivelare una stanza segreta, che contiene cose abbastanza di valore, chiave, busto, chi non vorrebbe girare con un paio di busti, di chi sarà questo, dubito sia Beethoven, potrebbe essere qualche presidente inglese, americano, non lo so, comunque è un bel busto, pesa solo un 50 kg, me ne porterei via almeno un paio, ogni volta che vado in esplorazione, in qualche posto super pericoloso, di nuovo potremo cercare di voler far fuori prima, lo stress dealer, per cui lo spacciatore di stress, vabbè avete capito cosa intendo, allora, a 6, quindi questa cosa farà tipo un danno, quindi non dovrebbe ucciderlo, però potremmo fargli l'esplosione disorientante, che lo stordisce e lo rimescola, vedete l'abilità, si può usare in tutte e quattro le posizioni, colpisce solo le tre posizioni dietro, meno 100% danni, quindi zero danni, però stordisce e rimescola, scombina, per cui lo sposterà dal suo posto, e poi potremo andarlo a colpire con qualcun altro, ci può stare, ci può stare, tu intanto direi che questo tizio morirà molto presto, per cui potremmo anche fare una curetta, forse è presto, questa 14, questa 21, questa, quanto ha preso? 24, e questa 33, ma quale curetta? Andiamo a infliggere danni, 6 danni, questo attacco ne fa da 2 a 3, quindi direi che andremo a stordire qualcun altro, se possiamo, non abbiamo neanche guardato la resistenza allo stordimento, ma fa lo stesso, non serviva un gran cap, potremmo fare un'accusa, un'accusa zelante, fa zelota, o zelante, zelante, farei 7 a 14 danni, dovremmo ucciderli, uccidere il primo, va bene, forse non serviva molto a stordirlo, ma non ha molta importanza, non aveva neanche troppo senso avvelenarlo, critico on face, ah, 13 danni, stress, no, 13, un sacco di danni, stress a manetta, non solo gioia, possiamo dire, tu sei a 5, per cui un danno più 4 di avvelenamento, dovresti morire, il problema è che in seconda posizione, per cui poi il nostro crociato non avrà molto da fare su quel tizio, ma va bene, tanto adesso dobbiamo decisamente curare, fin dente il cimitero, non sono super entusiasta della traduzione, ma è comunque, secondo me migliore di quella offerta dal giuoco di per sé, potremmo fare una cura singola su questo tizio, che ha preso un sacco di danni, e gli facciamo un critico, per cui curiamo bene, e gli facciamo ricoprare un po' di stress, maciniamo questo tizio, oh yeah, non montatevi la testa, le avventure iniziali sono un po' più facili, ma neanche così tanto, questo scrigno direi che richiede una chiave, lo capiamo da questa enorme serratura, non ci voleva un genio, suppongo, cibo e stemma, va bene, lo stemma sono quelli un po' più probabili, più facili da trovare, ma ci servono anche quelli, non lamentiamoci, allora qua vedo una trappola, qua vedo una trappola, direi che possiamo esplorare con calma un po' tutto, ricordiamoci che c'è una trappola, dove è? Eccola lì, ah, una trappola, dunque dunque, questa al 90%, vai a Dismass, disattiva la Easy per Dismass, e quindi guadagniamo pure un po' di stress, ho solo gioia, in questa stanza non dovrebbe esserci nulla, magari teniamo la luce un po' più alta, di così, andrei anche qua giù, giusto per recuperare cose, abbiamo anche un'altra trappola, per cui Dismass dovrebbe al 90% disattivarla, disattivare le trappole, potrei dirmelo prima a gioco, le trappole scoperte saranno visibili sul terreno, mentre ti ci avvicini, seleziona un eroe, e poi fai clic sulla trappola, Easy, Dismass, 90%, vai, disattivata, facile, un altro corridoio, comunque senza difficoltà, ora vedo una curiosità nel prossimo corridoio, quindi direi che andremo anche ad avventurarci lì, attenzione perché andare avanti, sì, ci stressa un pochino, non doveva essere combattimenti, citta, ci stressa un pochino andare avanti, ma ci stressa di brutto tornare indietro, quindi cerchiamo di evitarlo, allora direi che appestiamo questo tizio, non so se appestare, avvelenare, insomma in termini corretti, ma non ha molta importanza, cura di gruppo, oh yeah, due a tutti, va bene, abbiamo curato otto in totale, ce l'hanno veramente con il nostro dottore della pesta, a quanto pare non gli piace la branca di specializzazione del nostro dottore, il suo PhD non è stato gradito, allora tu sai, c'hai nove, prenderei quattro, quindi quasi farò comunque un'accusa zelota, dopo aver detto che non è una buona abilità, comunque questo tizio è andato a quattro, e morirà molto presto, trappaniamo questo tizio, easy critico per noi, non stiamo rannando così male, non è per ora un super problema, lo stress lo diventerà molto presto, ma non è ancora un problema, quindi te beccati questo, unica abilità che possiamo fare, tiriamo di questa bomboletta, bombetta puzzolente, come si usava alle elementari, suppongo, non so in che altre circostanze si potevano usare quelle bombolette puzzolenti, curiamo il nostro, non mi ricordo come si chiama, comunque il nostro dottore della peste, trappaniamo questo tizio, bong, ha una statuetta, non ricordo cosa fa, e non vado a controllare adesso, lo faremo usare a lui, semplicemente perché ha un po' di stress, immagino possa servire un'acqua santa, vedo una cosa che può contenere acqua, ha funzionato, beneficio di vino, cura di 12, ci cura anche 20 stress, che figata, chissà senza usare l'acqua santa cosa avrebbe fatto, generalmente se non usiamo l'oggetto giusto, o non usiamo affatto l'oggetto, la luce si sta affievolendo, il rally corrente della torcia influisce fortemente su molte meccaniche del gioco, più si fa buio, più le cose si fanno difficili, ma la ricompensa sarà maggiore, magari una volta proveremo anche a fare una run al buio, non so, moriremo probabilmente nel tentativo di farlo, dunque da qui potremo tornare indietro, o fare tutto il giro, farò tutto il giro, e abbiamo abbastanza torce, per potercelo permettere, tornare indietro aumenta i livelli di stress, a meno di non avere un'abilità specifica, perché questa cosa non avvenga, fa lo stesso, è possibile che ci siano degli incontri casuali, non segnate sulla mappa, anche se abbiamo già esplorato la zona, ma ritengo siano abbastanza rari, per cui non facciamoci problemi, e poi, uno scontro in più, per un gruppo così fico, come questo dei soliti sospetti, ok, comunque avete visto più o meno le meccaniche del gioco, non difficile, abbastanza difficile, secondo me più si avanza, anche perché, la non conoscenza si paga, un po' come nel poker suppongo, e è un gioco abbastanza brutale, per cui veramente a volte, non abbiamo modo di salvarci, ci becchiamo due critici di fila, e siamo morti, cibo a go go, il cibo potremmo anche volerlo consumare, per esempio, se usiamo un'unità di cibo su Dismas, bong, mangia e cura due, non può mangiare fino a sfondarsi, quindi non è sempre capodanno, per questo gruppo di esploratori, ma può comunque recuperare abbastanza HP, ogni tanto ci verrà fame, per cui la fatica dell'avventura, hanno fatto venire fame al gruppo, costerà 4 cibo, ripristinare 5% degli HP, ma se non mangiamo, soffriamo brutalmente, per cui cerchiamo di dargli da mangiare, abbiamo finito le torce, ok, quindi l'ultima parte sarà vagamente al buio, vedete che adesso siamo sotto a 75, più stress, ah vabbè l'avventura praticamente è finita, quindi GG, proseguirei comunque, c'è un'altra stanza, dai, su via, facciamo i codardi subito alla prima, non penso, forse è una pessima idea, ci stiamo stressando di brutto, tutto questo buio è perfetto, però non è imboscato, avresti anche ragione bro, ma non ho più torce, quindi avrei dovuto portarne qualcuna in più, scendiamo con 38, più stress, più precisione e danni dei mostri, più eroi sorpresi, più bottino, e più critici per noi, ma bene, avrei decisamente dovuto avere una torcetta in più, giusto che, allora, chi abbiamo qua? Una specie di tank, quindi un manzo con tanti HP e buona protezione, un guerriero random, il tizio che continua, oh, ce l'hanno veramente tanto con il nostro dottore della peste, un tizio che stressa, che stressa, un tizio che stressa è un balestriere, sparerò al tizio che stressa, preferisco se posso, a meno di non essere messo a mare con gli HP, cercare di ammazzare prima quelli che stressano, perché mentre gli HP li recuperiamo quando torniamo a casa, lo stress un po' meno, abbiamo modo, gas tordente, ok, granata pestilenziale, colpisce i due dietro, per cui andremo ad avvenenarli entrambi, solo gioie, questo tizio morirà da solo, 4 danni, e questo tizio a 14 prenderà 4, quindi direi che andiamo a trapanare questo, che credo abbia meno protezione dell'altro, l'altro ha un'armatura, lo scudo, bella forza, potremmo, non abbiamo problemi di HP, per cui credo andrò a cercare di finire questo, facendo 0 danni, immaginavo che un HP, un danno avrebbe potuto farlo, ma almeno ci siamo rispermati un attacco, forse conveniva curare, ma va bene, non facciamo i pignoli, diventeremo più schillati in futuro, questo tizio muore da solo, potremmo fare un attacco di gruppo, che farà il danno che manca a questo tizio, non fortissimo, però va bene, esplosione a grappolo, può andare, e va bene, questo ha schivato, ma morirà lo stesso, ok, faremo un'altra, suppongo un altro, dov'è, un'altra granata pestilenziale, qua dietro, tanto comunque il nostro obiettivo è colpire quello dietro, anche se prendiamo quello davanti, non è che ci dispiace poi così tanto, bong, morto, vedete che i danni staccano, per cui da 4 ora questo tizio prenderà 8 danni, direi che faremo una cura di gruppo, magari si sa mai che facciamo un critico, no, non è successo, va bene, succederà in futuro, questo tizio morirà da solo al prossimo scontro, quindi concentriamoci sul manzo qua davanti, che ha una bella faccina, non so se ha una maschera, o se quella è proprio la sua faccia naturale, ah non mi reggo in piedi, vabbè, ci ha danneggiato, fatto arretrare, e stordito, non solo gioie, questo è morto, quello morirà da solo, scontro abbastanza easy, per il nostro inizio, per la nostra prima registrazione, tu cosa puoi fare, inutile, vabbè, fai un'esplosione disorientante, non serve a nulla, ma rimuovi i cadaveri, quindi facciamo senza trappanarli, un'altra cura di gruppo, ma si si sa mai che facciamo un critico, non è caduto, tanto questo tizio morirà da solo all'inizio del suo turno, oppure si prenderà una spadata tra capo e collo, e gli spazziamo la testa in due, un sacco di loot, interessante, non abbiamo abbastanza spazio, per cui direi che mettiamo giù il veleno, quello che è il cura veleno, e ci chiamiamo buoni, un'altra volta usiamo una chiave qui, e ha uno scompartimento segreto, un sacco di roba interessante, possiamo mettere giù, immagino, questo, che vale 20 monete, ma non è che cambi molto onestamente, questo ne vale 5, facciamo i pignoli, quindi abbiamo finito la nostra missione, clicchiamo, per completare, GG ragazzi, in maniera GG, siamo sopravvissuti ai tutorial, siamo sopravvissuti alla prima missione, benissimo, ricopesce a missione, gold, i nostri stemmi, un trinket piuttosto inutile, le cose che abbiamo raccolto, ottenuto dall'inizio, che vengono vendute, diciamo, e i cimeli, i cimeli ci serviranno per potenziare, le varie parti del nostro borgo, ma lo vedremo nella prossima registrazione, comunque non è andata male, bene, facciamo un level up, tutti i personaggi di primo, perfetto, due punti feriti e un paio di tratti, zoofobia, più stress contro le bestie, esploratore delle grotte, più 20% esplorazione, coagulante, più 15% resistenza al sanguinamento, sono cose veramente importanti? Beh, all'inizio poco, tanto siamo nubi, dobbiamo provare le cose sulla nostra pelle, più avanti diventeranno più importanti, col trascorrere del tempo, alcuni tratti negativi potranno diventare permanenti, i tratti negativi permanenti, costeranno di più per essere rimossi, ma adesso non ci interessa, non è accaduto nulla di interessante, però abbiamo sbloccato la taverna, abbiamo sbloccato l'abazia, che potremo anche dare un occhio a cosa sono, la taverna è questa qui, eccola qua, la taverna serve per alleviare lo stress, gli eroi allievano, allievano, possono allievarlo, allievano lo stress, perdendo parte, prendendo parte delle varie attività della taverna e dell'abazia, ogni attività ha diversi effetti secondari, attenzione, cercare l'attività migliore per ogni eroe, la quale dipende dai tuoi tratti, va bene, per esempio, mettiamo caso che, adesso non possiamo, ok, mettiamo caso che vogliamo mandare a ricoperare stress a Mary, potremmo mandarlo a sbevazzarsi, a giocare a poker, cioè a giocare a gamblare a caso, probabilmente, e oppure i piaceri della canna, che con questa mascherina immagino sarebbe veramente conteso, tra i simpatici lavoratori di quella zona, e l'abazia tramite il chiostro, il transetto dove pregheremo, e la sala delle penitenze, che è al momento occupata, prendi il mio sangue, così come hai promesso, vabbè, così come hai preso non so cosa, così come hai preso la mia mente, buah, ok, impazzito nella sala della penitenza, va bene, ecco, a volte il custode ci occupa qualche slot, va bene, vediamo cosa succede in taverna, e si in taverna, dalla diriguenza, dove ci sarà, dalla carovana, dove ci sono tre nuovi eroi, e abbiamo un giullare, un bardo, chiamiamolo come vogliamo, un cercatore, uomo d'arme, che prenderemo, e il balestriere, va bene, e abbiamo sbloccato altro, no, perché la gilda è ferma, il fabbro è fermo, null'altro, prossima volta, ci avventureremo ancora, probabilmente sì, ora abbiamo sbloccato altre zone della rovine, sono tutte avventure di livello 1, per cui tutte apprendiste, quindi per ora tutta la portata, sbloccheremo le fogne, la palude, la grotta, ma lo faremo in un prossimo video, perché per quello di oggi è tutto ragazzi, un saluto alla prossima, ci vediamo nel prossimo video, un saluto a tutti da Lord Kain, bye bye!